Un veicolo elettrico con autista per accompagnare gli anziani e le persone con problemi di mobilità nelle vicinanze della tomba dei propri cari, ma anche per il trasporto di oggetti ingombranti o pesanti. Parte nel cimitero di Marostica il nuovo servizio gratuito di navetta che sarà a disposizione dal 2 di settembre nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato al mattino dalle 9 alle 11. L'iniziativa da tempo nel mirino del comune si è resa necessaria soprattutto dopo gli abusi dei permessi di transito in area cimiteriale, non sempre rispettati dagli utenti. L'assessore ai servizi sociali Renato Bertolin fa sapere che il servizio sarà monitorato per capire le vere necessità dei visitatori del Camposanto Cittadino. L'accesso con mezzi privati è comunque garantito ancora il martedì e il giovedì.